E adesso vi parliamo delle anticipazioni del segreto della prossima settimana. Ripartiamo dalla settimana che va dal 13 ottobre 2014 fino al 17 ottobre 2014. Jonas Berami della fiction Il segreto. Lunedì 13 ottobre 2014. Donna Francisca offre un lavoro a Fernando al fine di evitare che lui allontani Maria da lei. Tristan, Alex Gadea, discute in privato con Gonzale, Jordi Ecol. Mentre succede questo Alfonso e Emilia sono in ansia per Raimundo a causa del fatto che parla sempre meno, mentre Olmo donna appia il vestito che Soledad ha rifiutato di indossare. Mentre Danzanselmo è in pena per la vocazione di Gonzale. Martedì 14 ottobre 2014. Francisca e Raimundo inisano a vedersi anche pubblicamente con Francisca suscitando perplessità ma anche il fastidio di Emilia e di Alfondo. Mercoledì 15 ottobre 2014 Gonzale e Maria danno il via alla scuola per istruire la popolazione di Puente e Veilio, trascorrendo sempre più del tempo in compagnia, mentre Pia inizia a vedersi con Olmo. Giovedì 16 ottobre 2014 il rapporto fra Raimundo e Francisca è alternante mentre fra Emilia e Alfonso ci sono sempre più insanabili liti. Venerdì 17 ottobre 2014. Il rapporto fra Tristan e Gonzale migliora ogni giorno che passa, Tristan gli racconta sempre più spesso di Pepa. Mentre Maria non riesce a darsi pena a causa dell'aggressione subita da Gonzale. Mentre Mariana viene a conoscenza di un segreto sconvolgente, mentre Soledad non riesce a riprendersi gettando nella preoccupazione Don Anselmo. Mentre Maria non riesce a riprendersi gettando nella preoccupazione Don Anselmo.